E' durata circa sei ore la seduta del Consiglio Comunale di Sanremo chiamato ieri sera a discutere il bilancio triennale preventivo. In votazione c'erano proprio i conti dell'amministrazione per i prossimi anni. Il parlamentino, dopo un lungo dibattito seguito da scontri, ha infine votato favorevolmente il documento con un solo voto contrario dell'opposizione ed un astenuto. Seduta caratterizzata da un ritardo della riunione per la protesta della minoranza per il numero legale, uscita fuori dall'aula in attesa dell'arrivo di tre consiglieri di maggioranza. I conti pareggiano a 133 milioni, le spese in aumento sono per il personale circa 16 milioni e il sociale difeso a 11. La seduta è proseguita con le proposte di Sanremo al centro attraverso un emendamento di sindoni e di Sanremo attiva con tre ordini del giorno, bilancio sociale, risparmi sugli affitti del comune e vendita dei parcheggi pubblici. E' Forza Italia che ha presentato anche un ordine del giorno per ultimare la carrozzabile in zona San Lorenzo firmato dai consiglieri Baggioli e Balestra. Il consigliere Fabio Ormea di Sanremo insieme invece ha criticato lo scarso impegno sul patrimonio culturale avanzando l'aumento dell'addizionale IRPEF sui redditi sopra i 35 mila euro per aumentare lo 0,44% delle risorse del municipio impegnate per sport e giovani. La discussione quindi ha riguardato la presentazione degli ordini del giorno. Tre sono stati firmati appunto da Sanremo attiva, uno sugli affitti dei locali da parte del comune in relazione al piano delle alienazioni con la richiesta che la vendita venga subordinata alla verifica degli immobili sfitti, uno per l'introduzione del bilancio sociale come strumento più comprensibile per i cittadini e uno sull'alienazione dei parcheggi della nuova stazione ferroviaria per chiedere che la vendita venga stralciata dal bilancio preventivo. La Sise ha votato favorevolmente i primi due ordini del giorno, ritirato invece il terzo con l'impegno a discuterne in futuro. Ordini del giorno di Forza Italia con la richiesta che le colonine di servizio nell'area di transito della diga foranea vengano rimesse in funzione facendo pagare per il servizio e anche per il completamento della strada carrozzabile San Lorenzo e la messa in sicurezza della zona. La Sise ha votato negativamente con un'apertura per i lavori della zona C2 di San Lorenzo.